Oggi andiamo a fare una fatica della madonna, per quelli che vanno con le gambe, per quelli che vanno con i motori naturalmente, roba da ricover. Zola, San Lorenzo in collina, Uliveto, cimitero di Uliveto speriamo di non rimanerci giù. Io l'ho già fatta quella lì, comunque bello. Non ce la faccio mica, non so mica lo com'era. Vedete che il fornello è un sfighetto, perché se chiede a andare da un'aperta è anche brisa, se chiede a andare da un'ecco. Dove ci porti oggi, Cefo? Dove ci porti? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti Fantastica, ha meglio fare l'ernia. No, ma il bello deve ancora venire, adesso è che stavamo. Devo ancora cambiare la maglietta, certo. Sto facendo gli auguri una mia amica. La discesa adesso è salita ancora. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501